C'era un ragazzo che come me faceva ridere i palasport gridava molto, spaziava da l'auto ad idrogeno e il parmalat ma venne un giorno che si incazzò e un vaffa dei organizzò col movimento che poi dovrà ogni scontrino fotocopia non fanno inciugi, non vanno a trance, non hanno scorta né auto blu ma anche tra loro se vai a scavà, per me di maio se scaccola stop col grillo blog, blog grillo sul blog ha scritto a chiare lettere se non ci vuoi votar se di Battista sindaco tu a Roma vuoi votar ahhh Yeah!